Il lungomare di fronte al pontile di Lido di Camaiore ha ospitato Mettiamoci sulla Buona Strada una serata dedicata all'educazione stradale e, in particolare, a sostegno del Movimento Articolo 230, nato proprio per sottolineare l'importanza della divulgazione dell'educazione stradale, così come inserito in questo articolo del Codice della Strada. La serata è iniziata con la donazione alla Croce Rossa, da parte dell'Associazione Il Sorriso di Elisa, di attrezzature per l'educazione stradale per i bimbi. Poi, per tutta la sera, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di cimentarsi su un percorso indossando lo speciale visore che simula gli effetti dell'alcol sulle percezioni visive. Oltre a questo, la prova consisteva anche nel mettere alla prova i riflessi e le capacità di afferrare oggetti, sempre simulando gli effetti di sostanze alteranti. Sul lungomare erano presenti anche mezzi della Polizia Municipale di Camaiore e quelli della Croce Rossa e l'evento ha avuto come testimonial l'ex ciclista professionista Francesco Chicchi, campione del mondo di lettanti.